Edwidge Fennec era stata annunciata come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, ma c'è un cambio di programma. L'attrice sarà assente. Millie Carlucci, alla vita in diretta, ha rivelato che, nonostante fosse stata fissata la presenza dell'attrice francese come ospite a Ballando con le stelle, per la puntata di sabato 4 novembre, c'è stato un cambio decisionale. La Fennec purtroppo è influenzata e non riuscirà a stare bene per sabato. Millie però non si dà per vinta e ha annunciato che al suo posto ci sarà una sorpresa davvero interessante. Il ballerino per una notte è importante per la trasmissione e per gli altri concorrenti. Chi si esibisce come ospite speciale ha l'opportunità di ottenere un importante tesoretto che poi Alberto Matano assegna come premio ad una coppia che secondo lui è stata penalizzata dalla giuria. A svelare la presenza della Fennec era stato Guillermo Mariotto lo scorso 29 ottobre a Domenica Inn. Mentre stava andando in onda un momento di riappacificazione tra la veniera e l'avventura. L'attrice in questo modo sarebbe stata la terza ballerina dopo Andrè Antonello. Presente nella prima puntata. E i Poo. Ospiti della terza. Con l'occasione si era anche pensato di ricordare i film in cui lei e Lino Banfi avevano recitato insieme. Ripercorrendo il passato cinematografico italiano. L'attrice francese oggi ha 74 anni ed è stata una delle icone sexy degli anni 70 e 80. Ha recitato in molti film italiani e non solo. Recentemente la Fennec ha fatto un'intervista per Marie Clary e dove si è raccontata. Nonostante non venga più considerata una sex symbol. L'attrice sta continuando a lavorare con grandi registi. Come Pupi Avati che l'ha voluta in la quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario. La sua carriera è iniziata a 14 anni in Francia. In Italia è arrivata con il film Giovanna Coscialunga. Oggi l'attrice